Ciao a tutti, oggi in questo tutorial vi mostro come guadagnare buoni Amazon totalmente gratis Bene, questo è un sito che si chiama BaxiFee è un sito dove si possono completare delle semplici offerte esempio, sondaggi, questi sono tutti i siti di sondaggi oppure delle semplici offerte, per esempio, di applicazioni che si possono scaricare gratuitamente da Android, iPhone o iPad esempio, per Android, questa offerta dice, scarica e usa l'applicazione una volta che si è scaricata e si usa questa applicazione, l'offerta, il sito, ti paga 3000 punti che sono questi qui inoltre però, viene assegnato a ogni offerta, viene assegnato un bonus in base al livello che si ha esempio, io, ad ogni offerta che faccio, ho il 29% in più quindi se magari, per esempio, guadagno 300 token, gettoni dall'offerta in realtà, io, me ne vengono accreditati magari il doppio questo è stato un esempio poi, inoltre, c'è un contatore qui, che si chiama Hourly GIF che è un regalo orario che si sblocca una volta ogni ora e anche qui ti vengono accreditati dei punti io, principalmente, di queste offerte che danno io, prima di tempo, facevo qualche sondaggio poi, ho scoperto questo sito questo è il principale e poi, un altro qui allora, questo che è il principale si chiama Hideout TV ormai, su questo sito si apre questa schermata esempio, io premo qua Start Earning Dopodichè a sua volta si apre un sito che, ovviamente, bisogna essere registrati alla quale adesso, io tolgo un attimo il volume ok essendo registrati una volta che si è registrati compaiono questi punti guardando dei video anche in maniera automatica quello che io faccio e vi consiglio anche a voi per me è appunto di guadagnare dei punti una volta che ci sono questi punti possono essere anche mille duemila tremila quanti punti volete voi bisogna premere su read them che è un riscuoti in automatico premendo da qui Start Earning il sito rileva che c'è un'associazione di account che fa tutto in maniera automatica una volta che si vogliono riscuotere gli hide out point su Baxify basta premere a read them selezionare il sito Baxify questi saranno i punti che verranno accreditati sul account di Baxify io in questo caso non li trasferisco anzi li trasferisco per farvi vedere di questi 150 Bax point io prendo 195 vuol dire che i 150 li ho presi guardando i video 45 li ho presi tramite il bonus che è il 30% in più inoltre questo sito dà la possibilità di guadagnare punti giornalmente ovvero esempio questi questi 2 4 6 8 10 finestre sono per guadagnare punti giornalmente ovvero se completi gli offeri il regalo gli danno 200 punti se nei completi gli danno 500 se dai tuoi referral cioè le persone che gli invitano un link guadagnano 2500 punti tu prendi 250 eh token la stessa cosa vale per questi qui fino a qua inoltre invece eh questi invece lifetime quest sono praticamente dei bonus che danno però per tutta eh danno una volta per tutta la tutta la durata dell'account quando quindi per sempre questo per esempio è un daily bonus loyalty ovvero praticamente eh sono e questi qui praticamente un daily bonus è un bonus che gli danno quando hai raggiunto i 1600 punti ovvero guardando esempi per i video riscuoti tanto una volta che arrivi qui a 1000 nel mio caso a 1700 questa finestra diventa un arancione scuro premendo praticamente ti danno un bonus eh giornaliero di regalo inoltre però qui c'è un daily quest questo praticamente è queste offerte qui però per sbloccare questo per fare in modo che ti danno questi 5000 punti in regalo devi appunto raggiungere 1600 punti giornalieri nel mio caso sono 1600 questo credo che vada in base al livello ok stessa cosa vale per questo sistema questo lo devi fare per dieci giorni senza mancare mai un giorno e questo lo devi fare per un mese senza mancare un giorno se manca un giorno il contatore si resetta poi se invii stessa storia 100 200 500 50 1000 1500 2000 2000 2000 referral che però abbiano raggiunto almeno il decimo livello guadagni 50 200 e via discorrendo poi questi 50 80 e 100 sono i livelli esempio io adesso sono attualmente a 62esimo livello qui quando ho rinchionato il cinquantesimo livello ho preso come regalo 5000 punti adesso quando arriverò all'ottantesimo livello prenderò di regalo 10.000 punti e la stessa cosa quando arriverò al cintesimo livello prenderò i 5000 punti qui invece queste tre finestre sono più offer e fai più punti guadagni io fino adesso ho guadagnato 303.017 punti quando arrivo a un milione di punti guadagno 25.000 token ok stessa cosa per questo e per questo una volta che ad esempio adesso sono a 18.000 che corrisponderebbe a un dollaro e 85 io da questo sito ho già riscosso 46 dollari giornalmente oggi ho guadagnato 532 token per riscuotere questo si ho anche la possibilità no la possibilità di riscuotere sia in criptovalute quindi bitcoin litecoin eccetera che in gift card le gift card per l'italia sono mastercard amazon aztego zalando nintendo the force club carrefour decretton hm ovvi media world gamestop s lunga asos italy falconeri footlooker knight esserbella stardust benil spotify verbolario ciunti al punto librerie eco bmb pita rosso prenatal inspire tourskift gift apple music flixbus touglas ikea delivero unes airbnb itinissimi ali e ali per italy brick center mondadori steam chiavi primark despark tigros wonderbox ulor hotel gift renta card gift calcedonia esserbella casanova e tutti gli altri adesso non me li dico tutti perché sennò non finisco più ehm ogni ehm questi sono quali per l'italia ogni ehm gifter ha un minimo che parte da un certo valore esempio io che ehm quello che principalmente punto e questo amazon che per l'italia parte da un euro quindi vuol dire che qui sotto esempio qua sotto dove c'è scritto email or phone number si scrive la mail dell'account ehm dell'account ehm dell'account dell'account di amazon e in automatico qua si seleziona quanto ehm si vuole riscuotere io in questo caso ho 18.000 punti ma per guadagnare un euro posso usare 11.000 quindi una volta che ho il premuto su qui e ho la mail che poi viene in automatico inserita che viene valida per sempre si si fa su confirm withdraw io in queste cose non lo faccio perchè voglio raggiungere un po' di più una volta che si è premuto su withdraw dopo i mediamente sono 2-3 giorni qua in alto su questa campanella si esce una pallino rosa che si hanno delle notifiche non lette si preme ecco si preme escono tutti esce una roba una tabella del genere che ho scritto amazon italy e gif voucher qui dove c'è scritto ok si preme ok si copia questa ehm ehm questo codice ok si va su sito di amazon nel proprio account buoni regalo e si e lì si incolla il codice che avete copiato appena copiato premete su aggiungi e da lì avete guadagnato un euro semplicemente facendo guardando video inoltre come vi avevo annunciato all'inizio questo è il sito principale però ce n'è un altro che si chiama lot tv questo premendo su videos lot tv che anche lui permette di guadagnare dei punti guardando semplicemente dei video eccolo ok io in questo caso ho 57,5 punti anche qui stesso sistema di ida auto tv si premete su boxify anche qui guadagnerei 150 punti stessa cosa li riscuoto e mi viene mi verrà da un bonus in questo caso io non l'ho fatto bene questo è un sito molto valido tanto che io ho già guadagnato tanti soldi tanti tanti buoni amazon questo è il primo tutorial adesso vi lascio in sotto in descrizione vi lascio il link a cui iscrivervi tramite il mio referral e buon buon questo